Allora, benissimo, facciamo un applauso al DJ, che è il DJ resident delle Roma 26 del venerdì, lo ritroveremo quest'inverno, sono tanti anni che mi segue, è un grande, che dico è un grande, è un grande, viene da un paese lontanissimo, pensate, vedete addirittura, non so, il DJ che viene dal più lontano al mondo, da Catanzaro, fatemi un applauso, DJ in La Marta Cat, bene, giustamente l'hanno chiamata e li facciamo salire sul palco, fate un applauso, loro sono bellissime, veramente, che sono? Fate un applauso, fate un applauso. Allora, dietro di me voi non le vedete perché siamo rimedizzati, siamo importuni, con un'anima sola, all'anima, belle queste ragazze, fatemi un applauso, loro sono le Vintage Angels! E giro a tutto intorno alla stanza, mentre si danza, danza! Voglio vederti danzare, come la zingata del deserto, che non ci puoi fare, come la zingata del deserto, perché mi ti sento, come la zingata del deserto, quindi mache tutto intorno alla stanza, come la zingata del deserto, che si danza, danza! … Ok, qua la gotcha! Grazie a tutti.